Grazie a tutti. Ringrazio Silvia e Milva perché il loro racconto in realtà è il piedilista delle condizioni di lavoro tra un alto e un basso e quindi sono state molto efficaci, è sempre bene ascoltare la crudele realtà per capire anche il delta contratuale, anche se vorrei sgombrare il campo. Avete fatto un lavoro enorme nella contrattazione, anche l'ultima che avete fatto, questa categoria ha gestito una crisi che era sull'ottovolante, quindi sia dal punto di vista bancario che dal punto di vista assicurativo, diciamoci la verità, abbiamo gestito dentro questo paese, tra l'altro un paese molto debole rispetto anche i soggetti bancari e sicurativi che arrivano dagli altri paesi, un fatto molto importante e va dato atto. Detto questo non abbiamo bisogno di nascondere i problemi, la crudele realtà e questo passaggio sui contratti pirata e le condizioni che creano siamo bomba rispetto anche ad esempio, penso alla discussione che viene fatta sul salario minimo dal governo, che penso che abbia una simbologia al posto di conoscere i contratti e cosa succede in Europa e nel nostro paese. Ora, cosa sta avvenendo sul lavoro, proviamo a metterci anche il contesto, cosa sta avvenendo sul tema lavoro, non solo in Italia, guardate anche in Europa. Io arrivo stamattina da una ricerca, non lo sapevo, guarda caso c'è stata una ricerca fatta dalla fondazione di Vittorio che prendeva anche il mondo bancario dal punto di vista dell'evoluzione, del cambiamento e la digitalizzazione ha creato un cambiamento inedito, non ho bisogno di dire voi, provate a immaginare cosa vuol dire l'acquisizione online, dell'assicurazione, dell'acquisto, compro, vendo, un cambiamento inedito e in realtà però in Europa c'è stata una cultura che ha poi portato anche una discussione politica in adattamento. Al centro noi abbiamo avuto finanze, imprese e mercato con quella cultura che il mercato comunque prima o poi avrebbe risolto i problemi e sarebbe riuscito ad assestare una crisi inedita. Abbiamo perso dal 2008 al 2017 il 10% di PIL, nemmeno nel 1929 questo paese aveva perso il 10% di PIL e la cultura era che ci pensava al mercato e lavoratori, diritto e umanesimo sociale ovviamente dovevano essere messi in parcheggio perché comunque poi il mercato avrebbe ripreso. Un'analisi politica quanto più sbagliato in quanto il tema non era il mercato ma era il grande cambiamento dell'innovazione della tecnologia che stava arrivando e stavano arrivando soggetti in mondo una globalizzazione che entrava in casa nostra. In questo scenario un modello per competere come? Non ho bisogno di dire a voi, in quel modello ci siamo trovati con soggetti finanziari che avevano venduto 8 volte l'economia reale perché di questo si tratta. Una bolla che poi arrivava anche sulla gente perché in America la lemma non è che lì hanno venduto una bolla e vendevano case, case su case, carta su carta, in Spagna è stato così. Anche da noi guardate non era tanto sulla casa perché molte erano di proprietà e quant'altro ma se io prendo la filiera edile, l'impatto che hanno visto i crediti incagliati sulla filiera edile è il vero delta che hanno le banche e le assicurazioni. Quindi siamo stati dentro, abbiamo dovuto governare un processo che ha avuto un impatto finanziario senza precedenti nel nostro paese e quella bolla si è scaricata, si è scaricata a terra dove? A piedi di lista sul costo del lavoro e quindi siccome non svaluto la moneta in tutti i settori in forma trasversale svaluto i diritti, svaluto il lavoro per stare sul mercato, per esistere, per competere e quindi svaluto il lavoro, svaluto i diritti. Questo è un passaggio che è avvenuto in tutta Europa. Macron la prima cosa che ha fatto quando è arrivato ha voluto fare il suo jobac, doveva essere l'innovazione anche culturale. In Spagna non è che hanno scherzato, hanno tolto il diritto fino a 50 dipendenti, possono licenziare liberamente. Uno dei punti di Sanchez è di ripristinare, di scendere quella soglia perché fino a 50 dipendenti ci sono dentro il 90% delle persone, ormai è una canea. L'Inghilterra non ne parliamo sullo stato del diritto, qui ha scritto un bellissimo libro, Orkarma, sullo stato di diritto dello sciopero in Europa, lì ovviamente dopo la grande sconfitta siamo piedilista del diritto del conflitto sulla possibilità di fare conflitti. Lo dico perché, e arrivo alla tua domanda, c'è un problema di tenuta della rappresentanza dei sindacati in Europa? E come se c'è? Perché noi abbiamo avuto una bolla di precarietà che non contempla la libertà di iscrizione sindacale, che è stato uno dei punti dello scontro lì dentro. Cioè questa frammentazione era studiata, voluta culturalmente per competere, non ci deve essere un contratto, non ci devono essere diritte perché l'esercizio e la forza individuale della reazione dei soggetti nella loro libertà doveva essere non solo frammentata, ma messa nella corsia della polarizzazione. Come fai a scrivere su una persona quando sa che appena fa la mossa di avvicinare Calcagni viene licenziata? È così. Quindi il tema della rappresentanza è molto serio, però la metterei sul terreno di che qualità democratica noi vogliamo in questo paese. Perché se indebolisco così il soggetto lavoratore, guardate, a prodotti precari si fa l'Italia precaria, si fa l'Italia che ha paura e si pensa di chiudersi nel nostro paesello pensando che passa la nottata, la nottata non passa, ci arrivano addosso. In questa fase vuol dire al di là della discussione possiamo dare la colpa all'Europa, ma qui ci sono due contratti che questi hanno firmato, hanno firmato loro che continuano a esplicitare, ma ne hanno firmato uno con l'Europa che è fatto preciso, non è che gli posso dare la colpa, posso alzarla, ma non è che gli posso dare la colpa. Se metto che privatizzo per 18 miliardi dentro a un bilancio, poi per fortuna non hanno fatto le privatizzazioni, perché guardate le privatizzazioni se le avessero fatte voleva dire Eni, Enel, voleva dire Snam, Terna, quei soggetti lì per fare cassa, provate a immaginare la consegna delle reti di questo paese ai soggetti, lì arrivano i cinesi, già i cinesi sono dentro cassa depositi e prestiti, hanno preso il 32%, nominano in Terna, nominano in Snam, hanno preso una licenza in Inghilterra, arrivano con una società di carte di credito e ne ha già 6 miliardi di carte di credito, perché siccome c'era il vinco adesso l'han liberalizzata Inghilterra, perché la Brexit ora comporterà, di essere un grande paradiso fiscale in competizione con l'Europa. E quindi la dimensione della discussione politica non ce l'abbiamo rispetto a il cosa sta avvenendo e avverrà in questo paese e in realtà se ci pensate noi siamo dentro al totale sgoverno del cambiamento senza accompagnamento sociale, perché abbiamo anche un altro problema, prendiamo il nostro trittico, perché non ci saltiamo fuori, quando Maurizio dice chiamatela come volete ma il tema della redistribuzione è un tema vero, ha perfettamente ragione, noi abbiamo un trittico in questo paese, possiamo dare la colpa agli altri, 2300 miliardi di debito, se io faccio il prodotto interno lordo lo 02, 03, 04, 05, non faccio un posto di lavoro in più, cresce il debito e quel debito tra l'altro quando cresce il debito si alza e si polarizza la ricchezza di rendita, su pochi soggetti privati il 10 detiene il 50% di 5 mila miliardi, non ho bisogno di dire voi dove sono e come sono, i 200 miliardi di evagioni finanziano quella reddita, in quei 200 miliardi c'è la filiera dei farabutti, c'è la filiera degli appalti, c'è la filiera del nero, c'è la filiera di tutto quello che qui state raccontando, se io non attacco questo trittico è evidente che le condizioni anche di lavoro vanno in quell'autoavvitamento, perché se non ho una redistribuzione che mi permette di fare la mediazione in Europa qual è stata la più grande operazione politica che è stata fatta, lì sì che la politica contava, tra capitale e lavoro abbiamo fatto la mediazione che si chiamava Welfa, ma era la più grande redistribuzione per mettere dentro nei processi di grande cambiamento, perché le rivoluzioni le abbiamo avute anche nel passato, di cambiamento, mettevamo dentro il sapere, la sanità, la previdenza perché mi dava la tranquillità di un futuro e che quindi la condizione di lavoro, oggi questa mediazione è totalmente saltata, siamo nello sgoverno e in questo sgoverno se io entro in quella bolla, Silvia, ovviamente anche il coraggio, queste lavoratrici entrano in quella bolla di lavoro precario, senza diritti, quando sei lì dentro loro si avvicinano al sindacato, ma c'è una parte che ha una rabbia senza precedenti, ma dice ma perché là sono così e io sono qui e nessuno vuol dire se non noi con tutta la difficoltà ci vede e in quella rabbia sapete dove va? A destra, perché quella rabbia dice sapete cosa c'è? Ditemi chi è più contro, quello lì datemi un'urna, conta più l'urna che il ruolo confederale, generale di un sindacato che vorrebbe fare la mediazione e vivo la giornata, posso votare oggi quello lì, domani voto questo qua perché ho talmente bisogno di cambiamento che faccio un investimento sul presente e non c'è più il soggetto che partecipa, che aderisce a un sindacato, che liberamente confligge, quando sono lì è evidente che il tema si chiama tenuta democratica e questo è lo scenario e quella bolla crea anche un problema di rappresentanza, anzi paradosso, ti dico una novità, dentro la crisi noi abbiamo mantenuto la tenuta della rappresentanza, sai perché? Perché siamo andati a gestire un miliardo di ore di cassa integrazione e siamo entrati in imprese che non c'eravamo mai stati e siccome lì avevamo talmente bisogno del sindacato, siamo entrati per fare l'accordo ovviamente, avevamo bisogno del sindacato, siamo entrati e abbiamo fatto rappresentanza, dove è che poi abbiamo iniziato a perdere rappresentanza? Quando quella frammentazione, quella precarietà è ritornata e quindi quella frammentazione batte perché non è che in questo Paese si va a dire che abbiamo recuperato i posti di lavoro, ma di cosa stiamo parlando? Gli indicatori ormai di occupazione e disoccupazione sono totalmente sballati, c'è un indicatore unico che tiene, che sono le ore lavorate, in quel settore lì che dice Silvia il problema è il part time involontario e le condizioni di lavoro, fai gli straordinari, non te le pagano, vieni qui che c'è un pezzo in nero e dal 2008 al 2018 noi abbiamo un miliardo, 800 milioni di ore in meno, non mi sono sbagliato a dire la cifra, che vuol dire un milione di lavoratori, di addetti tramutati in ore e anno, un milione tuttora di addetti, di lavoratori in meno, perché? Perché è successo che stiamo competendo nel modo che vi ho detto e siamo sul part time involontario, non c'è più uno che fa un mese intero e quindi il tema è salario minimo, no il tema è il lavoro povero, perché uno se oggi è a part time o dentro a quelle agenzie, se prendo il part time prende più il reddito di cittadinanza che il part timely. Ed è lo scontro anche della nostra iniziativa di mobilitazione, questo è un pezzo dello sconto dell'iniziativa della nostra mobilitazione, confederale unitario un patrimonio, non è mai successo che abbiamo messo in campo iniziative verticali di sciopero di la stragrande maggioranza delle nostre categorie con una filiera unitaria confederale che io penso avrà uno sbocco, perché adesso anche questa cosa qui si sono accorti che c'è un sud, parlano di autonomia differenziata, ma qui c'è già la secessione, c'è un sud che se non lo prendo, che ha una grande opportunità, se non lo prendo lo metto dentro a questo paese, questo paese non ce la fa e ho la cultura del nord produttivo e del sud in assistenza a reddito di cittadinanza, ma se al sud non gli metto le filiere innovativo che ha un hub del mondo là in fondo e lo tengo in assistenza, ma con quel trittico lì, questo paese va giù per le scale di cantina, perché è Natale tutto l'anno, non ce la possiamo permettere se non creiamo valore aggiunto, perché in questo paese abbiamo un altro problema di valore aggiunto e di produttività, sapete perché? È un problema di olio di gomito, ma no, facciamo il maggior numero di ore lavorate all'anno e del lavoratore italiano, i salari sono i più bassi, la pensione non ne parliamo, quindi non è un problema di… no? Qual è il problema? Che abbiamo un sistema di una macchina che ci sia autoavvita perché l'energia costa il 40% in più, perché non abbiamo saperi e competenze, abbiamo il mismatch tra competenza e possibilità di far reggere le filiere innovative, perché abbiamo la logistica, non abbiamo le filiere ambientali, potrei continuare perché la Cigelia le ha messe lì tutte a disposizione anche delle altre organizzazioni, quando diciamo Industria 4.0 ho un'idea di modello di sviluppo del paese, ci sono le più grandi filiere ambientali, io andrò adesso, devo correre alla Spezia perché abbiamo fatto l'accordo sul sistema energetico, il cui è un pezzo assicurativo importantissimo quella filiera lì, e vado alla Spezia per chiudere la centrale a carbone, 74 ettari di bonifica, diciamo una centralina a gas che facciamo la transizione per i picchi, lì però facciamo la riconversione industriale per mettere delle aziende innovative, tutto il Consiglio Comunale vota contro, tutti! E io capisco che il consenso immediato fa rappresentanza, ma il paese lo spegniamo, Cigelia e Cigelia almeno la Cigelia non può stare su quella cultura, perché se noi stiamo su quella cultura dell'immediatezza, le due teste le abbiamo sempre avuto, Di Vittorio quando entravano i trattori nei campi è evidente, che sapeva che i braccianti perdevano lavoro e cercava di difenderli, ma sapeva che quella era una filiera industriale indispensabile, innovativa, che avevamo bisogno per qualificare il paese nel tempo. E in questo scenario qual è il tema culturale da porre a questo paese? Il lavoro lo vogliamo ancora di stampo costituzionale o va bene l'impianto di stampo commerciale dove la prestazione, la mia e quella di Carme, quella di Giuliano è uguale, non c'entra il soggetto, la prestazione, l'acquisto e divento un contratto commerciale, meno lo pago e meglio è, i soggetti non c'entrano più, quindi non c'è più il sentimento, non c'è più il soggetto, non c'è il fatto temporaneo dei grandi gruppi di giocare in borsa rispetto al dividendo e quotazione che mi danno gli indicatori mensili, altro che la pratico Livetti, stipendi 1-10, non ci sono solo nei grandi gruppi, tra l'altro la fisica aveva fatto quell'operazione sugli stipendi che già era un tratto di moralità, ma quegli agenti di cui dice Silvia e Milva, lì dentro non prendo l'estocopcio, ma quelli lì sono rapaci e quindi la tenuta di questa discussione è una tenuta anche morale dal punto di vista delle condizioni della polarizzazione. In questo scenario io vedo un tratto, guardate che la morfologia del nostro paese, l'80% sono imprese sotto i 15 dipendenti, abbiamo un bel problema, hanno tolto anche l'articolo 18, ma non crescono, togliamo l'articolo 18 che così crescono, buonanotte, roba da matta, perché non crescono? Perché se noi non qualifichiamo le filiere e appunto la contrattazione, quando noi parliamo di contrattazione i contratti diventano importantissimi, i contratti sanciscono i diritti e i doveri, è democrazia, ma non è una fisima solo della Cigelli i contratti, un contratto nazionale fa la concorrenza leale, determina le condizioni, i diritti e doveri e determina un vivere democratico sul tema dell'articolo 1 della Costituzione, il lavoro è un fatto importante e se io sto su questa operazione è evidente che il contratto nazionale io lo devo rafforzare in una complessità dove le filiere fanno la differenza, non c'è più l'impresa dove tutto lì dentro, c'è un'impresa che è collegata con una filiera mondo, guardate facciamo 100 le imprese in questo paese, il 30% che è stato sull'innovazione, che ha fatto investimenti in saperi, in tecnologia, sta nel mondo, non ha mai guadagnato così tanto, lì dentro facciamo anche gli accordi sindacali, perché come dicono a Bologna dove c'è della Ciccia, poi gli accordi li facciamo, il problema che abbiamo perso è il 25% di manifatturiero, sono 500 mila imprese, perché le abbiamo perse, abbiamo sezionato come Cigelle quelle imprese e quindi provate a immaginare l'impatto sulle assicurazioni, l'impatto sul credito, 500 mila imprese, cosa è avvenuto? Quelle imprese erano totalmente sottocapitalizzate in mano a voi, secondo, senza investimenti innovativi e la giocavano tutta sul costo del lavoro, ergo se io non ho le filiere innovative quel 25 diventa 30, il nostro problema che abbiamo stiamo dicendo a questo paese, non solo a questo governo, o noi qualifichiamo la tenuta del nostro patrimonio manifatturiero, a partire dal vedere il sud delle possibilità, altrimenti quella idea di assistenza fatta così si autovita e la prossima volta che sentiremo Silvia è peggio? Questa è la discussione politica che noi stiamo facendo e in questo scenario si è infilata anche la cultura della disintermediazione, quanto è più complessa la gestione della mediazione, hanno infilato anche la cultura della disintermediazione, prima e dopo, prima, mentre gestivamo un miliardo di ore di cassa integrazione sono andati a fare la riforma della Costituzione, è incredibile, c'era il grande cambiamento in atto, stava cambiando tutto, ha messo in pista la riforma costituzionale, incredibile, e nella totale disintermediazione, come se fosse una strategia, siete vecchi, siete quelli del gettone, ci penso io nel rapporto diretto, arrivano questi, il liderismo in presa diretta, la piattaforma Rousseau, bianco-nero, non c'è più la sfumatura, la mediazione diventa alto tradimento, la triplice, questi ragionamenti, ma oh, e perché noi ci stiamo scontrando con loro? Perché c'è anche uno scontro culturale sul diritto a contrattare e riconoscimento, se io voglio disintermediare non è che ti accorgi di noi solo quando andiamo in piazza, è un'idea di società, i corpi intermedi sono previsti da questa Costituzione, non è che la prendo a pezzettini, ci sarà pure un motivo perché io penso che la rappresentanza dentro i contratti sia il livello più alto, perché quando faccio un contratto sono le condizioni di migliaia e migliaia di persone, la loro vita e allora abbiamo bisogno di dire come stiamo dicendo con forza, adesso non c'erano gli amici, i compagni della Cisla, io penso che siamo a un passaggio inedito, 888 contratti non fa reggere le condizioni di lavoro, quel contratto lì della SNAP, poi per fortuna voglio dire che abbiamo anche sentenze di quella qualità, io ringrazio sempre gli effetti speciali che Carmen ci dà, ma diciamoci la realtà, da quella sentenza che fa riflettere che 880 contratti non possono reggere, il tema non è salario minimo, il tema sono i contratti pirata, sono i contratti, perché guardate quei contratti lì, il salario minimo lo mettono anche, dov'è che fanno i pirati? Lo fanno nelle qualifiche intermedie, sulla normativa, sulla flessibilità, sugli orari, sulle ferie, sui diritti e lì te lo fanno il 20-30% in meno e competono, competono sugli appalti, mi serve andare sotto ancora di 10, un po' meno di normativa, vado sotto di 10, lo deposito Cnell e fatta. Perché non dice che i 9 euro sono il trattamento minimo? Non il trattamento complessivo del contratto, ma se io metto una cifra lui non sa neanche cos'è un contratto, perché nel mettere una cifra gli importa dire che ha risolto la povertà dei lavoratori, come quando dice il reddito di cittadinanza, ma se io metto il salario minimo in quel modo lì, il tema sono i contratti pirata e le ore lavorate che le persone sono povere, perché se gli dai 9 euro facevano 4 ore, gliene fanno fare 3 e sui appalti modificano, fanno un altro contratto pirata. E allora io cosa devo prendere? La fonte, qual è la fonte per non avere più i contratti privata? L'articolo 39, la legge sulla rappresentanza, perché in quella discussione con il governo discutono i 9 euro? Giustamente come gli dice Maurizio non firmate la convenzione del testo unico che è stato firmato da tutte le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, perché non firmate la convenzione? Volete dire 9 euro non mi firmate la convenzione che è già lì pronta per certificare la rappresentanza? Se certifico la rappresentanza da un'istituzione pubblica diventa un fatto pubblico come dovrebbe essere, la rappresentanza non può più restare un fatto privato, deve essere un fatto pubblico riconosciuto perché quando io firmo modifico la vita delle persone e se firmo ci metto la faccia e in quel testo unico c'è anche la possibilità, qualora io non abbia la maggioranza, di raccogliere le firme e chiedere un referendum se i lavoratori ritengono che la mia firma li ha modificati in payus. Questa è la discussione e se io la guardo sugli appalti ha dell'incredibile, qualsiasi tipo di appalto, ma vi sembra a voi normale che lo chiamano sblocco al cantiere, ha messo il massimo ribasso fino a 5 milioni di Euro, 90% dei appalti, ma chi arriva, ma anche gli imprenditori non capiscono niente in questo paese, è una classe dirigente incredibile, ma io ho detto anche a Confindustria l'altro giorno, ma scusate, ma voi pensate che col massimo ribasso li prendete voi le aziende serie che applicano i contratti, che stanno in regola, ma lì arrivano quei farabutti che devono riciclare, c'è la storia piena e li prendono quelli lì e in che condizione poi tengono i lavoratori, provate a immaginare ogni appalto e ne mettono dentro uno. Il problema è la qualificazione delle nostre imprese, se io non risolvo le filiere che stanno nella competizione leale, quel problema lì non lo risolviamo e questo è lo scenario di una discussione e poi ci vengono a dire, dobbiamo fare il salario meno perché in Europa lo fanno tutti, urca ragazzi, abbiamo una cosa che funziona, una, in Europa, abbiamo la più alta copertura contrattuale in Europa, l'85%, in Germania ce l'hanno il 50% e poi abbiamo anche il secondo livello noi, ne abbiamo una cosa fatta bene perché questo sindacato confederale è un patrimonio in Europa, anzi la scelta confederale è mai più azzeccata dentro la globalizzazione, perché la verticalità sta creando problemi grossissimi agli altri sindacati europei, perché la verticalità di categoria senza la tenuta confederale anche fuori dal luogo di lavoro che c'è il welfare, c'è la sanità, c'è il diritto sociale, ci sono tutta la batteria di temi inevitabili per far reggere il luogo di lavoro, cos'è questa scelta dell'impresa metaforica in un territorio deserto, se non ha la sanità un sindaco, un sindacato, questo è l'impianto e scelgono così, dicono lo fanno tutti e quindi questo è il tratto della discussione che noi stiamo facendo ed è evidente che in questo contesto io penso, così come ha detto Giuliano, la CGL ha lanciato e lancerà ieri nel direttivo il tema della contrattazione inclusiva, cosa vuol dire? Quello che hai detto tu, nella storia del sindacato i lavoratori più forti hanno sempre capito di dover vedere i lavoratori che sono fuori nella loro filiera, che sono quelli più deboli, se noi non mettiamo dentro ogni giorno quei lavoratori, non gli diamo un diritto in più, quelle condizioni tirano giù anche questi, non è che questi restano fermi e quelli peggiorano, qui peggiorano, qui vengono giù, è la storia della CGL nella sua storia, riprendetevi lama su questo, che è la testa più confederale che abbiamo sempre avuto, ha sempre detto guardate che il lavoratore va visto anche fuori dal luogo di lavoro, perché solo dentro il luogo di lavoro rischiamo di diventare corporativi anche noi e nella corporazione sono meglio gli altri, la fabbia è meglio nella corporazione, noi non possiamo essere corporativi, in questo ragionamento è ovvio che ci passa anche uno scontro di cultura politica, perché è l'adattamento della sinistra in Europa, in questo paese, su questo terreno, io spero che rialzi un po' la testa, perché certamente noi non dobbiamo andare in Parlamento, ma il tema anche è che una cultura politica, rispetto a padroni di casa nostra, ci sia una cultura politica che sia in grado di avere un racconto a questo paese, è un problema che abbiamo, quando abbiamo parlato di cultura progressista l'abbiamo messo dentro al congresso, abbiamo bisogno di uno spostamento anche di una cultura progressista, anzi che faccia un'idea di Europa che sia in grado di portare a avere un'Europa sociale, non mercato lavorista, liberista, protezionista, i liberali diventano protezionisti alla menù e alla carta, quindi il tema del vostro contratto è il tema fondamentale, del come iniziamo a avere la nuova campagna contrattuale, devo dire che c'è tenuto unitario e poi permettetemi, le condizioni di lavoro, le leggi ti possono sfondare, voi parlate delle agenzie, ma quella cosa lì ad esempio che abbiamo posto come Cigella e Cisui, arriveremo con la piattaforma monetaria sul fisco, perché? A parte il dumping che fanno in Europa sul fisco, ormai si compete per ragioni sociali, uno mette una ragione sociale in Irlanda o in Olanda, risparmia il 20%, saluti e baci, ma stiamo al fisco italiano, ma se io metto che le partite IVA hanno una tassazione del 15% fino a 60 mila Euro, cosa succede nei vostri settori? Che il problema non è più la subordinazione, che nelle agenzie gli propongono quella roba lì e gli dicono i consulenti facciamo metà sull'IRPE, prendi mille Euro in più e quel ragazzo giovane cosa deve fare pur di lavorare? Si consegna e lì non lo iscrivo al sindacato, se non sono in grado di parlargli e parlare al Paese sul fatto che quella roba lì è una roba da matti, perché se io prendo la Fraccaro, la piattaforma Rousseau, il salario minimo e le partite IVA, non c'è più la subordinazione, non c'è più il sindacato confederale, perché da una parte vado tutta democrazia diretta e non c'è più la democrazia delegata, dall'altra una cifra, non ci sono più i contratti confederali perché sui 9 Euro mi faccio il contratto del tutto e se vado sui 15% di tassazione sulla partita IVA non c'è più la subordinazione, è il peggio del peggio. Questo è il tratto anche dello scontro che noi stiamo facendo e l'altra domanda che faremo CGL e CISUIL, quando voi l'alzate in quel modo vogliamo sapere chi paga? La domanda che dobbiamo fare? Chi paga? Ormai l'IRPEF è diventata una tassa, la pagano solo i lavoratori dipendenti pensionati, poi abbiamo il grande forfettario, voglio mettere tutto a forfè, flac, tax e quant'altro, ma lì dietro c'è la tenuta del welfare del nostro paese, in quel modello lì, imprenditore di me stesso, passa anche il fatto datemi soldi in busta paga che ci penso io, un giovane cosa deve fare? Arriva lì e quando siamo lì, siamo sull'otto volante tutti, questa è la nuova discussione politica e l'impianto e io penso che la sfida contrattuale stavolta sia anche la sfida della confederalità, sia la sfida della democrazia del nostro paese, sia una sfida confederale, il contratto non è più un fatto verticale, è un fatto di tenuta del come noi vogliamo i lavoratori che si avvicinano a noi perché hanno capito che di là c'è del pericolo. Grazie. Applausi Grazie.